Spero tu abbia una buona visuale sul tetto, 47. Il bersaglio sta arrivando. Molto creativo, 47. Potresti eliminare le guardie vicino ai bordi del tetto. Le strade sotto sono vuote a quest'ora. Spero tu abbia una buona visuale sul tetto, 48. Potresti eliminare le guardie vicino ai bordi del tetto. Spero tu abbia una buona visuale sul tetto. Spero tu abbia una buona visuale sul tetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Richard Strong. Le guardie iniziano a sospettare. Prendi controllo della situazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ben fatto. Abbandona la posizione. Alle pulizie penserà l'agenzia.